Dign o bagno, tappa non difficile ma 19 km, il col delle spigulie è duro seppure di terza categoria Un quartetto in fuga, Gimondi, Merckx, Vanskill, Gandarias Gimondi ieri a Digni è risalito al terzo posto in classifica, distacco da Merckx, 7 e 29 Arrivo in pista Tentativo di volata lunga da parte di Gimondi come la terra battuta impone, riesce per lui la vittoria Dietro Gandarias, Merckx, Vanskill Classifica naturalmente ingessata a favore di Merckx